Dopo il caos scoppiato su AstraZeneca e i casi anche gravi di effetti collaterali registrati nel nostro paese, il Kodakons ha lanciato nelle marche un'azione collettiva in favore di tutti i cittadini della regione con meno di 60 anni che abbiano ricevuto dosi della casa farmaceutica anglo-svedese. La situazione di totale incertezza, si legge in una nota, e i continui cambiamenti nel piano vaccinale hanno di fatto messo potenzialmente a rischio la salute di quei soggetti che hanno ricevuto AstraZeneca, pur essendo categorie a cui la somministrazione era sconsigliabile. Errori, ritardi e repentini dietro front da parte degli enti pubblici, spiega il Kodakons, che aprono ora le porte ai risarcimento. Dunque, i marchigiani che hanno ricevuto singola o doppia dose di AstraZeneca possono aderire all'azione collettiva lanciata sul sito, finalizzata a far ottenere risarcimento anche in assenza di conseguenze fisiche legate alla vaccinazione e per i potenziali rischi corsi sul fronte della salute. Nello specifico, l'azione mira chiedere il risarcimento di 10.000 euro del danno non patrimoniale causato dalla paura di ammalarsi, che è riconosciuto dalla giurisprudenza da diversi anni, il risarcimento del danno non biologico permanente o temporaneo, riportato per essere stato sottoposto alla vaccinazione AstraZeneca, ma anche l'indennizzo a carico dello Stato nel caso ci sia stata una menomazione psicofisica permanente, che poi dovrà essere valutata e quantificata.